Come molti ho pensato che non avrei mai dovuto commentare la scomparsa di Berlusconi perché anche io come molti pensavamo che Berlusconi se non immortale lo era quasi invece ci troviamo a doverlo ricordare, ricordiamo un protagonista assoluto della storia italiana è un uomo che ha stravolto le vecchie regole in tutto e per tutto nella comunicazione, nella televisione, nella diplomazia, nello sport, nell'urbanistica e viva Dio nella politica, con lui è iniziato il bipolarismo che prima non c'era